alfredo scogna la torta di ciliegie tratto dalla città di mafalda del 99 oppure come fosse l'ultimo istante il penultimo album prodotto da piero cassano alfredo cantautore abruzzese di guardia grele amico di va graziani e va graziani era un chitarrista straordinario e come vedete siamo sommersi da questo muro di chitarre e dobbiamo ringraziare anche l'angolo musicale che ci ha permesso di fare questo bellissimo video per voi di cookie music alfredo scogna la torta di ciliegie e dove potevamo essere se non alla torteria quella di via vittani un posto che vi consiglio di frequentare alfredo scogna è un fine cantatore abruzzese un amico per noi di cookie music l'abbiamo presentato diverse volte è stato nella compilation di musica nuova in cucina alfredo ti vogliono bene e ti salutiamo da cookie music ciao come ciliegie 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 amarene griotte ciliegie punto io più di così non so cosa fare birra da abbinare con le ciliegie ciliegie bella cric è fatta con le ciliegie cosa dobbiamo fare dobbiamo pensare una birra no perché dice no quell'altra no ciliegie siamo in belgio siamo vicino a bruxelles una birra super particolare un po cilina un po gustosa la stappiamo anche in maniera particolare questa anche il tappo a vite in sughero diamo un pochino e mi fa venire voglia di berla questa birra vediamo se l'attesa ripagherà vabbè dai c'è anche da parlare questa cosa qui salute un pochino